Qui vogliamo le nostre aule! Qui vogliamo le nostre aule! La scuola è uno spazio in cui crescere, ad aversene di spazio però. Gli alunni del Liceo Scienze Umane e Linguistico di Locri hanno indetto uno sciopero per protestare proprio per un problema di carenze di aule. Infatti, dallo scorso 14 settembre, ben 5 classi, circa 140 ragazzi, sono costretti a seguire le attività didattiche negli spazi adibiti al laboratorio anziché nelle aule. La situazione che si trascina ormai da diversi mesi causa non solo diversi disagi ai ragazzi costretti a trascorrere le ore di lezione in luoghi non confortevoli, ma tutti i liceali che sono privati della possibilità di usufruire dei laboratori. Ma andiamo alla radice del problema. L'Istituto, che anni fa aveva avuto una contrazione di iscritti, aveva ceduto le aule in disuso all'Istituto Professionale Industria e Artigianato di Siderno. Oggi, tuttavia, assistiamo ad una situazione di segno opposto. Il liceo Locrese ha registrato un boom di iscritti, che tuttavia si trova ad accogliere male, mentre l'Istituto Professionale non sfrutta appieno i locali donati proprio per un calo di studenti. La situazione sembrerebbe a portata di mano. Il Mazzini potrebbe riprendersi sui locali e il problema presto risolto. Non qui, non in Calabria. Gli istituti non trovano un accordo e la provincia non entra nel merito. E nel rimbalzo di competenze, solo una cosa è certa. I ragazzi, in piedi, attendono non l'ennesimo mezzo di trasporto in ritardo, ma di veder rispettati il loro diritto allo studio, da parte di chi, ogni giorno, cerca di insegnargli la legalità. Oggi la protesta dei ragazzi del Mazzini. Per cosa state protestando? Per una situazione che va avanti da due mesi, noi abbiamo proprio una carenza di aule, abbiamo necessità di cinque aule e i ragazzi stanno svolgendo le lezioni didattiche, quelle giornaliere, nei laboratori, privando loro della sicurezza necessaria, ma privando anche gli altri studenti di soffrire dei laboratori. Laboratori dove verranno fatte le lezioni con video, multimediali, soprattutto per quanto riguarda la classe del linguistico, sono fondamentali, dico proprio fondamentali per svolgere il lavoro giornaliero didattico della mattina a scuola. La soluzione sembra abbastanza vicina, la soluzione di questo problema o no? La soluzione era già stata trovata, non era risolutiva né per i nostri problemi né per l'altra scuola, perché i problemi permangono, ma noi capiamo che è difficile anche per l'ente provincia. Però una volta che si giunge a una determinazione i tempi non possono prolungarsi oltre, perché va a discapito sia della salute che del diritto allo studio dei ragazzi. Quindi la situazione ottimale è quella di razionalizzare sia nell'interesse dell'istituto magistrale, sia dall'altra istituzione scolastica e dare la possibilità ai ragazzi, nel limite di questa struttura, di poter studiare in modo tranquillo e sereno. E questo glielo dobbiamo, penso, garantire. E' da luglio. E' da luglio si poteva intervenire in un momento in cui l'attività didattica era sospesa, non si sarebbero creati disagi, siamo oggi a novembre e ancora siamo nella medesima situazione.